Claudio Santa Maria Ferraro nasce a Roma il 22 luglio 1974, è alto 1 metro e 70 centimetri. Attore, dagli anni 2000 partecipa a numerosi film di successo come L'ultimo bacio e La stanza del figlio e nel 2016 vince il David di Donatello. Ecco 5 cose che forse non sai su Claudio Santa Maria. Ha frequentato il liceo artistico e pensava di diventare architetto. Il suo debutto cinematografico è stato nel 1997 con Fuochi d'artificio dove interpreta Erbanana. Ha 17 punti sulla schiena per un incidente che ha avuto in motorino. Per interpretare Nick, musicista jazz nel film di Pupiavati ma quando arrivano le ragazze ha imparato a suonare la tromba. Appassionato di fumetti da ragazzo collezionava Dylan Dog.